Non chiamatela più Jessica Chenstein, ma contessa Jessica Passi de Preposulo. Con una cerimonia esclusiva a Villa Tiepolo a Carbonare, in provincia di Treviso, l'attrice ha sposato sabato 10 giugno il conte Gianluca Passi, manager di Montclair. Tabloid è riuscito a infiltrarsi al matrimonio blindatissimo. Ecco le immagini esclusive scattate a bordo di un elicottero. Per le nozze Jessica ha indossato un lungo abito bianco con scollo a cuore, cristalli svarotti sul corpetto e velo fissato allo chignon. Gianluca ha scelto invece un elegante abito blu scuro. Tra i 200 selezionatissimi invitati c'erano anche Anna Hathaway con il marito, l'attore Adam Schulman, Emily Blunt, lo chef Davide Oldani con la moglie e il cupido Roberta Armani. Jessica e Gianluca si sono infatti conosciuti nel backstage di una sfilata di Armani per il quale il neosposo ha lavorato come PR. Il sì tra la bella star californiana, 40 anni e due candidature agli Oscar, e il conte Trevigiano, 34enne, arriva dopo 5 anni d'amore, sempre vissuti con la massima riservatezza. Dopo la cerimonia nuziale sono iniziati i festeggiamenti, anticipati da una festa esclusiva a Venezia, il giorno prima delle nozze in un palazzo vicino al ponte di Rialto. Grazie a tutti.